Gianmarco Tamberi va alle Olimpiadi di Parigi 2024. Non ci sono dubbi, lo stesso Tamberi avrebbe infatti detto sarò presente, scenderò in pedana al 100%. Le parole del campione olimpico dunque vanno a far ben sperare. Gimbo dunque sparte a Parigi, la capitale francese, l'uomo di 32 anni di età, marchigiano, infatti è stato obbligato, ma è costretto, a rinviare purtroppo la partenza del Parigi per colpa di un calcolo renale, quindi a Eleni. Però mercoledì domani sarà impegnato in qualificazioni alle Olimpiadi 2024 di Parigi. Gimbo Tamberi lo conosciamo tutti, è un ragazzo semplice, umile, in gamba, straordinario, un uomo che ama lo sport, lo sport fatto col cuore, lo sport fatto bene. E di conseguenza sapere che ci sarà, per me è una notizia davvero molto bella, molto piacevole, molto buona. Bene, vi ringrazio per l'ascolto e per la visione, il video termina qua, iscrivetevi, seguite la commenta, ciao a tutti.